bello a tutti guaglioni e ben ritrovati nel mio canale oggi ragazzi ci troviamo su gta 5 online dove scopriremo insieme qual è la miglior sportiva esistente ebbene sì ragazzi questo è un video chiarimento per tutti coloro che non vogliono sperperare soldi quindi comprare un'auto che alla fine non è molto performante anziché un'altra che costa molto molto di meno e che ha prestazioni molto più elevate quindi ragazzi una classifica veramente lunga ci sono 33 auto che ho studiato nel dettaglio e le guarderemo e le analizzeremo sotto 4 punti di vista velocità accelerazione freni e trazione quindi ragazzi ho fatto dopo una percentuale media ovvero una sorta di overall sommando queste 4 cifre e dividendole per 4 quindi ragazzi banda le ciance iniziamo subito con l'ultima della lista 33esima posizione per la tropos rally 81 in velocità accelerazione 56 freni 23 trazione 23 ha un overall di 45,75 32esimo a posto per la blista compact velocità 70 accelerazione 57 freni 18 trazione 63 overall di 52 31esima posizione per la bellissima futo velocità 72 73 in accelerazione freni 17 trazione 62 overall di 54 trentesima posizione per la bellissima 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 sultan velocità 78 accelerazione 65 freni 13 trazione 71 overall di 56 e mezzo 29esima posizione per la curuma blindata velocità 78 accelerazione 77 freni 16 74 in trazione overall di 61,25 ragazzi ragazzi alla ventesima posizione ragazzi alla ventesima posizione ragazzi alla ventottesima posizione ragazzi alla ventottesima posizione si trova la curuma normale che ha prestazioni identiche alla curuma blindata ma siccome costa di meno quindi più conveniente l'ho voluta mettere una posizione prima ve le rileggo comunque le statistiche 78 in velocità 77 in accelerazione 16 in freni trazione 74 overall identico ovvero 61,25 27esima posizione per la drift tampa 80 in velocità 82 in accelerazione 16 in freni e 68 in trazione overall di 61 e mezzo 26esima posizione per la buffalo bravado s 78 in velocità 68 in accelerazione 30 in freni e 74 in trazione 62,5 in overall 25esima posizione per la schwarzer 79 in velocità 79 in velocità 73 in accelerazione 30 in freni trazione 70 overall di 63,5 24esima posizione per la omnis 81 in velocità 76 in accelerazione 33 in freni 64 in trazione overall di 63,5 23esima posizione per la fuselade 80 in velocità 80 in velocità 80 in velocità 80 in accelerazione 30 in freni 74 in trazione overall di 66 proprio come la lgrh8 che si trova in 22esima posizione che si trova in 22esima posizione velocità 82 in velocità 83 in accelerazione 37 in freni trazione 82 21esima posizione per la furore gt 81 in velocità 83 in accelerazione 26 in freni trazione 77 overall di 66,75 al 20esima posizione al 20esima posizione al 20esima posizione al 20esimo posto con un overall identico si trova la jester 84 in velocità 75 in accelerazione 31 in freni 77 in trazione overall 66,75 19esimo posto per la bestia gts 83 in velocità 79 in accelerazione 33 in freni 73 in trazione 67 in overall 18esima posizione per la stranissima variare 80 in velocità 80 in velocità 83 in accelerazione 33 in freni 73 in trazione 67,25 in overall identico alla jester da gara che si trova in 17esima posizione e uguale alla coquette che si trova in 16esima posizione ragazzi vi ricordo che quella che costa di meno l'ho voluta mettere alla posizione diciamo prima cosicché sia più conveniente quindi molto molto migliore quindi la jester da gara ha le seguenti statistiche 84 in velocità 77 in accelerazione 31 in freni 77 in trazione mentre la coquette 82 in velocità 83 in accelerazione 27 in freni 77 in trazione ora ragazzi passiamo alla raptor che si trova in 15esima posizione 75 in velocità 77 in accelerazione 40 in freni e la miglior auto oppure ragazzi triciclo a motore con 40 di freni con 40 di freni quindi ai migliori freni di tutti e 78 in trazione overall di 67,5 14esima posizione per la banshee 79 in velocità 85 in accelerazione 33 in freni e 73 in trazione ha lo stesso overall della raptor ovvero 67,5 13esima posizione per la bellissima lynx 84 in velocità 75 in accelerazione 31 in freni e 77 in trazione con un overall di 68 carbonizzare alla 12esima posizione 85 in velocità 88 in accelerazione 27 in freni e 72 in trazione ha lo stesso identico overall ovvero di 68 della lynx 11esima posizione per la comet 82 in velocità 85 in accelerazione 27 in freni 79 in trazione ha un overall di 68,25 ora ragazzi passiamo alla top 10 fino ad ora ragazzi spero che molte auto che prima reputavate molto molto migliori di altre perché costavano di più praticamente abbia sfatato questa cosa che se un'auto costa di più allora va più veloce ragazzi è veramente una stronzata e nella top 10 veramente ci sarà da ridere decima posizione per la felzer 82 in velocità 85 in accelerazione 27 in freni e 80 in trazione ha un overall di 68,5 non ha posizione per la lg retro custom 79 in velocità 82 in accelerazione 33 in freni e 81 in trazione ha un overall di 68,75 proprio come una massacro normale ragazzi è una cosa veramente inconcepibile 82 in velocità per la massacro 90 in accelerazione 29 in freni 74 in trazione overall come vi stavo dicendo prima uguale a quello della lg retro custom ovvero di 68,75 settima posizione per la rivale praticamente diretta della massacro ovvero la massacro da gara 83 in velocità 91 in accelerazione 29 in freni e 74 in trazione overall di 69 proprio come la obei 9f cabrio e la obei 9f ovviamente ho messo al quinto posto la obei 9f perché costa molto molto di meno degli altri due quindi obei 9f statistiche 83 in velocità 83 in accelerazione 33 in freni e 77 in trazione overall identico di 69 quarta posizione per la bellissima 770 85 in velocità 83 in accelerazione 33 in freni e trazione 77 69,5 di overall ora top 3 al terzo posto si trova la rapid gt cabrio ragazzi io non me lo sarei mai aspettato da quest'auto un'auto molto 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 semplice 80 in velocità 90 in accelerazione 90 in accelerazione freni 33 74 in trazione overall di 69,75 proprio come per la seconda posizione per la rapid gt che ha le stesse identiche caratteristiche con un overall quindi uguale di 69,75 e ora passiamo al primo posto e secondo me del tutto meritato un'auto che non costa così tanto però ragazzi che va veramente forte e la sua estetica anche la fa da padrona parlo della comet retro custom 81 in velocità 85 in accelerazione 26 in freni e ragazzi la trazione la fa da padrona ben 90 punti ragazzi l'auto con più trazione di tutti quindi primo posto per la lg retro custom ragazzi in questa classifica manca soltanto le statistiche della specter e della specter retro custom io spero di riuscire a diciamo a studiarle queste caratteristiche facendo un po' di prove e quindi ragazzi vi potrò aggiornare anche questa classifica man mano che ho un po' di dati per le mani quindi ragazzi questo video per ora finisce qua spero che vi sia piaciuto io vi ricordo sempre di lasciare un pollice in su qui sotto nel video per darmi tanto tanto supporto e poi alla fine lasciarne uno e sempre gratuito io vi ricordo che a 50 like farò un'altra classifica sulle migliori super quindi quale sia la migliore super quindi con più prestazioni rispetto ad altre io vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale se lo avete già fatto per non perdervi i prossimi video su questo gioco e su altri e di iscrivervi ai vari social network che vi lascerò qui sotto in descrizione grazie a tutti bella